dove discuteremo il giudizio abbreviato. Oggi il giudice ci ha dedicato molto tempo per questo interrogatorio e il 30 settembre ci saranno le richieste del pubblico ministero e le ringhe difensive dei due difensori. Ha fatto dichiarazioni spontanee? No, si è sottoposto a interrogatorio, ha risposto alle domande ovviamente dei difensori, del pubblico ministero che lo ha controesaminato in maniera approfondita anche cercando di scoperchiare le parti più articolate della vicenda e del giudice che ha voluto puntualizzazioni su aspetti certamente centrali della vicenda. Ha risposto a tutte le domande, si è sottoposto all'esame e riesame delle parti e il giudice ha preso atto di questo e ha rinviato serenamente il 30 settembre.